Ciao, bentornati e bentornati. In questo video parliamo di numeri complessi e in particolare come calcolare una potenza dove la base è un numero reale, ad esempio 5, e l'esponente è un numero complesso, ad esempio 2 più 3i. Esercizi di questo tipo si trovano raramente nei libri di matematica perché è molto più frequente che venga spiegato come calcolare la potenza dove la base è un numero complesso mentre l'esponente è un numero reale, ad esempio chiamato z un generico numero complesso, quindi z elemento di c, è facile reperire sui libri o su internet la spiegazione di come calcolare z alla seconda o z alla terza o anche la radice quadrata di z che è uguale a z elevato a un mezzo. Ma qui il problema è diverso perché la base è un numero reale mentre l'esponente è un numero complesso. Quindi questo problema rientra nella tipologia di 5 elevato a z. Per cui in questo video vogliamo scoprire anzitutto se questa operazione ha senso, se è possibile calcolare una potenza con esponente complesso e in caso affermativo vediamo come fare. Potremmo fare una prima esplorazione con una calcolatrice, ad esempio Google può essere utilizzato come calcolatrice. Non tutti sanno che se su Google si scrive ad esempio 2 più 2, il primo risultato è 2 più 2 uguale 4. Quindi oltre a essere un motore di ricerca è anche una calcolatrice. Allora proviamo a scrivere 5 elevato a 2 più 3i. Che cosa restituisce Google? Potete provare anche voi. Restituisce circa 2,89 meno 24,83 per i. Il risultato è abbastanza curioso. Ad esempio la parte reale è circa 2,89. Però la parte reale dell'esponente 2 e 5 alla seconda fa già 25. Quindi cerchiamo di capire se Google ha preso una cantonata e ha dato un risultato sbagliato, ha interpretato male quello che abbiamo scritto, oppure è corretto e come lo abbiamo ottenuto. Allora vediamo come possiamo procedere. 5 elevato a 2 più 3i. Anzitutto possiamo applicare le proprietà delle potenze e riscrivere questa espressione come 5 alla seconda per 5 alla 3i. Abbiamo utilizzato la proprietà del prodotto di potenze con la stessa base. Se ricordate a elevato a b per a elevato a c è uguale ad a elevato a b più c. Però le uguaglianze possono essere applicate in qualunque direzione, quindi possiamo anche dire che a elevato a b più c è uguale ad a elevato a b per a elevato a c, che è esattamente quello che abbiamo fatto qui sopra, dove a è uguale a 5, b è uguale a 2 e c è uguale a 3i. Passo successivo è calcolare 5 alla seconda che è uguale a 25. Quindi abbiamo 25 per 5 elevato a 3i. Questo cosa significa? Che la potenza con esponente complesso può essere ricondotto al calcolo di una potenza con esponente immaginario puro, cioè con la parte reale uguale a 0 e poi semplicemente moltiplicare per 5 alla seconda in questo caso, cioè la base elevato alla parte reale. Ora calcolare 5 elevato a 3i è un pochino più complicato e per farlo servono alcune conoscenze. Quali sono i prerequisiti? Il primo è l'identità di Eulero. E elevato a x è uguale al coseno di x più i seno di x. Ho dedicato un bel video a questa identità, se vuoi saperne di più quindi ti lascio il link sia in fondo a questo video sia nella descrizione. Una seconda proprietà riguarda il fatto che l'esponenziale e il logaritmo naturale sono l'una all'operazione inversa dell'altra e quindi se applicata entrambe si annulla una vicenda. Quindi qualunque numero z è uguale ad E elevato al logaritmo naturale di z. Non proprio qualunque perché z deve essere diverso da 0, non si può calcolare il logaritmo di 0 e in campo reale z deve anche essere positivo perché non si può neanche calcolare il logaritmo di un numero negativo, anche se nei numeri complessi il logaritmo può essere esteso anche ai numeri negativi. Facciamo un esempio. 18 può essere posto uguale ad E elevato al logaritmo naturale di 18. Molto semplice. Terza proprietà, il logaritmo naturale di z elevato ad A è uguale ad A per il logaritmo naturale di z, cioè l'esponente può essere estratto dal logaritmo e portato qui come fattore. Note queste cose vediamo quindi come procedere. 5 elevato a 3I è uguale ad E elevato al logaritmo naturale di 5 elevato a 3I. In pratica abbiamo utilizzato questa proprietà che possiamo chiamare 2, la proprietà 2. Dopodiché l'esponente 3 elevato a I può essere estratto e portato qui come fattore, cioè abbiamo applicato la terza proprietà, la proprietà 3. A questo punto possiamo trasformare la funzione esponenziale in coseno e seno. Quindi applichiamo la proprietà 1, dove al posto di x, che evidenzio, c'è 3 per il logaritmo naturale di 5. La I è a parte, quindi rimane coseno di 3 logaritmo naturale di 5 più I seno di 3 logaritmo naturale di 5. Ora che abbiamo calcolato 5 elevato a 3I è sufficiente moltiplicarlo per 25 e si ottiene che 5 elevato a 2 più 3I è uguale a 25 per il coseno di 3 logaritmo naturale di 5 più I seno di 3 per il logaritmo naturale di 5. E questa è la soluzione esatta, cioè qui abbiamo la parte reale e qui abbiamo la parte immaginaria, chiaramente sempre moltiplicata per 25. Questa soluzione può sembrare diversa da quella che ci ha proposto Google, ma se andiamo a sostituire i valori vediamo che si tratta esattamente della stessa cosa. Infatti se calcoliamo 3 per il logaritmo naturale di 5 otteniamo circa 4,82831 eccetera. Se poi calcoliamo il coseno e il seno otteniamo questi valori 0,115 meno 0,993 che poi moltiplicato per 25 ci dà lo stesso risultato che ci ha proposto Google. Io ho messo anche qualche cifra decimale in più perché queste sono tutte soluzioni approssimate, la soluzione esatta la possiamo scrivere solo così. Se sei interessato ai numeri complessi ti lascio il link a un altro video, in futuro cercherò di arricchire la raccolta e ti ricordo di lasciare un like se il video ti è piaciuto e di iscriverti al canale se non l'hai ancora fatto. Ciao e grazie. Grazie. Grazie.